Buonasera a tutti, in particolare saluto il carissimo compratello Messuo, da un po' l'operazione all'altra, ma così mi piace più vedere la gente ed essere visto, e chiedo anche scusa che non ho il discorso scritto come si dovrebbe avere di fondo al pubblico come voi, qualcuno sa che cito sempre, in una piccola città del nord-est, quando chiedi scusa di non avere il discorso scritto, l'organizzatore, forse un po' ammocerato, disse, no no, monsignore, può parlare alla rompera.